è stato un fine settimana amaro dal lato calcistico è anche vero che che nella vita non c'è solo il calcio ma per noi il calcio è una è una roba importante è un po' come il ping pong per i cinesi te vai in Cina e rompi gli coglioni il ping pong che è il loro sport nazionale vedrai come ti si rivoltano tutti i conti cioè comparando le due cose loro hanno il ping pong i cinesi hanno il ping pong e noi abbiamo il calcio allora siccome tutti leggono il giornale e c'è chi lo fa anche a pagamento io stamattina voglio fare un video diverso e commentare un paio di cosette diciamo che ho appena letto un po' se le trovo la prima è questa che Inter Lukaku è finita ma quello ormai lo sapevamo tutti addio al prestito bis il club a caccia del sostituto troppi venti milioni investiti nel duemilaventidue ventitré tra prestito a Chelsea ed ingaggio al calciatore la dirigenza valuta i parametri zero Firmino secondo me Firmino è di un'altra categoria ha 32 anni ma è un giocatore che a me piace moltissimo e Turam Turam lo sapete io lo volevo infortunato al posto del ballerino chi mi segue lo sa chi mi segue da un anno lo sa perché io dissi prendiamo Turam infortunato ma il ballerino dall'altro gli faccio gli auguri ho letto e si sposa anche a breve però gli auguro una vita felice ci mancherebbe ma lontano dall'Inter al ballerino quindi io dissi prendiamo Turam rotto ma il ballerino lasciamolo perdere quindi anche qui ora te mi dirai Lukaku ora sarà demotivato no Lukaku non deve essere demotivato anzi deve essere motivato a fare un finale di stagione nella migliore maniera possibile anche perché ragazzi è stato parliamo al passato è stato il giocatore più pagato della Serie A il centravanti più pagato della Serie A e io vi vorrei ricordare con tutto il bene che gli abbiamo voluto a questo ragazzo secondo me si è comportato malissimo con noi vi vorrei ricordare che l'ultimo gol di Lukaku risale al tredici agosto gol su azione l'ultimo gol su azione di Lukaku risale al tredici di agosto duemilaventidue te dimmi di cosa vogliamo ragionare con il Lecce lui l'ultimo gol su azione l'ha fatto la prima di campionato tredici agosto duemilaventidue con il Lecce il centravanti più pagato della Serie A barra calciatore più pagato della Serie A dimmi di cosa vogliamo ragionare dimmi di cosa vogliamo ragionare tra l'altro mi dispiace per quello che è successo a Teo Hernández io sono vicino perché ci sono delle persone purtroppo ragazzi veramente non lo so cosa possono avvenire nel cervello determinate persone ad augurare quello che hanno ad augurato a Teo Hernández quindi mi dispiace Teo sei un nemico detto gergo calcistico ma comunque sei un calciatore sei un ragazzo sei una persona ma è tutti noi e quindi mi dispiace Teo Hernández però purtroppo ci sono anche questi personaggi quindi nel mio piccolo ti sono vicino guarda anche da anche perché ragazzi guarda Teo apprezzalo perché ti sono vicino anche in un momento dove ci lottiamo il quarto posto sempre se non ridanno i 15 punti alla Juve perché altrimenti ragazzi qui stiamo parlando del nulla attenzione e molto probabilmente e no eh no molto probabilmente potrebbe esserci addirittura un incredibile dopo la famosa semifinale dove siamo usciti tanti anni fa potrebbe esserci addirittura una semifinale intermina di Champions League quindi caro Teo duro fatica a parlare di te da interista ma da uomo ti sono vicino e mi dispiace per quello che ti è successo quindi guarda davvero mi vergogno per chi ti ha detto quelle cose sinceramente perché il calcio non è questo lo sport non è questo cioè questa queste robacce qua non fanno parte del calcio ci sta lo sfottò ci sta tutto ma queste cose qui augurare quelle cose lì non fa parte del calcio quindi questi signori perché ragazzi io ve lo dico parliamoci sinceramente i cinesi lo sappiamo tutti però io cosa vi ho detto cosa vi sto dicendo a tanto tempo i cinesi non decide più nemmeno di che colore devono comprare l'artigenica lui prende ordini dalla Cina io questo noi ve lo stiamo dicendo ma anche io da Messi lui non decide più nulla lui fa quello che gli dicono di fare sappiamo sappiamo che poi alla fine no? era normale andare a giro ad accattonare i giocatori a zero in prestito diciamo detto in senso figurato quando vai a rovistare tra la spazzatura o tutto rispetto lo sto dicendo in senso figurato ragazzi lo sto scherzando cioè cosa ti aspettavi si sta sgretolando tutto si sta sgretolando tutto hai abbassato troppo il livello della squadra cosa ti aspettavi dove volevi andare con i cinesi siamo sempre lì dove volevi andare con i cinesi quando vai a raccattare i giocatori a zero con tutto rispetto per il Lazio e Roma ci siamo ridotti a prendere gli scarti della Lazio della Roma almeno prima si prendevano del Real del Barcellona del Manchester ora della Roma e della Lazio ma dove volevi andare ti ritrovi a lottarti in quarto posto con un allenatore che che voi lo sapete a me parrucca Conte non è mai piaciuto come allenatore ma io anche perché quando vedo Conte vedo la scena di quando lui alla Juve ve lo ricordate il famoso rigore di Giuliano su Ronaldo vedo lui e se la ridacchia con Ronaldo intervistato e dice no è tutto a posto ma cosa volete è un gobbo è a me per quello mi sta sui coglioni parrucca perché è un gobbo e come allenatore non mi è mai piaciuto perché io ragazzi la voglio far finita con questo tre cinque due e la voglio far finita anche con il gioco a tergiristallo di Inzaki destra a sinistra destra a sinistra tutto in orizzontale tic toc tic toc sembra un orologio un tergiristallo della macchina tic toc tic toc fascia crossa Danfris e rompe i finestrini delle macchine parcheggiate nel parcheggio a stanzia oppure Gosens che Gosens è l'unico è Di Marco ma Di Marco non può fare tutta fascia perché per fare tutta fascia devi essere un cyborg in quello schema devi avere forza resistenza e fase difensiva cosa che Di Marco non ha Di Marco è un bel giocatore ma per me messo in un altro ruolo ma non è finita qui masterclass i dirigenti i cinesi lo sappiamo ma ora anche voi i giocatori è giusto che vi prendiate le vostre responsabilità quindi ora avete le mutande marroni come si dice dalle mie parti e cosa ho letto stamattina gente guadagna 5-600 mila euro al mese gente guadagna 1200 euro al mese e fa l'abbonamento e viene a vedere viene anche in trasferta gente magari litiga con la moglie per seguire la squadra e lascia i figli magari la domenica o la moglie e cosa ti tocca leggere a te comune mortale con questi ricchi viziati perché non mi avete rotto i coglioni anche voi eh cioè è anche colpa dei giocatori non è più i cinesi ormai te lo ripeto lascia stare i cinesi i giapponesi masterclass anche te masterclass alla fine poi ci dovrai spiegare tante cose anche te masterclass perché fare il fenomeno alla Juve so buono anch'io abito o no cosa vado cosa vado a leggere stamattina un altro vertice inter in zaghi che poi queste sono le barzellette fanno le riunioni sapendo che non lo possono esonerare o esonerare fino a quando c'è i cinesi perché è come se tu eh avessi venduto che ne so una moto e la voglio rimettere a posto il cinesi non spende più un euro fino a che non finisce le passerelle e far via altro vertice inter in zaghi si valuta un premio per l'arrivo tra le prime quattro è una roba gravissima cosa questa cosa che sta a significare che dirigenza e allenatore non ci stanno capendo più nulla più nulla e stanno dando di mercenari e giocatori ok non vi volete impegnare più siete in autogestione vi paghiamo di più quindi te pensa che danno sarebbe fare una cosa del genere solo pensarla a stai dando di mercenari ai giocatori e b vi state dando degli incompetenti da soli perché l'unico modo che avete per stimolare è pagare gente che è già profumatamente pagata fate ridere tutti fate ridere tutti Morigno è bollito vero? si si è bollito Morigno intanto la Roma ha vinto anche ieri Morigno era senza attacco Morigno è bollito vero? si si va bene Morigno è bollito mentre noi no noi non siamo bolliti noi siamo freschi io te l'ho detto viviamo tutti in un paese bellissimo ma altrettanto strano dove non sempre viene fatta giustizia anzi non viene mai quasi fatta giustizia dove in questo paese spesso le persone per bene lo prendono in tasca e i cialtroni vanno avanti io te lo ripeto se danno 15 punti io non mi meraviglio più di nulla ormai soprattutto in questo calcio malato e schifoso perché il calcio italiano è malato e schifoso ma se disgraziatamente a quelli o le maglie lì bianche e nere gli ridanno 15 punti noi dimmi di cosa vogliamo parlare poi dopo di cosa vogliamo ragionare dopo di cosa vogliamo ragionare hanno fatto un'operazione gli servivano centramanti hanno preso ma il celsi secondo te no il celsi spende 115 milioni te lo dai in prestito perché secondo te ma poi che cazzo di movimentazioni sono ma che siamo con tutto il rispetto la regina prendi un giocatore di celsi per rivalutarlo ultimo gol 13 agosto io non ce l'ho con Rumelo sono andato a giro con la sua feppa fino all'altro giorno ultimo gol di Lukaku su azione 13 agosto non me ne frega nulla pali travesse contano i numeri contano i gol e lui l'ultimo gol su azione l'ha fatto il 13 agosto si parla di premio a giocatori gente guadagna 500 mila euro al mese gente prende bonifici da 500 mila euro si parla di premi è uno schifo io ragazzi ve lo giuro non mi è mai capitato di essere così stegnato dall'inter perché tra dirigenti allenatore i cinesi non te lo vogliono cioè ragazzi mi state facendo passare la bolla è uno schifo e poi vi dico l'ultima cosa ve l'ho già detta se perché allo stadio bisogna tutti fischiare non andiamo allo stadio io ti dico la verità sono un po' confuso io posso dire quello che farei io fino a che c'è questo qui fino a che c'è i cinesi questa specie di proprietà che genera solo debiti day after day io non gli do più una nina guarda questa felpa l'ho comprata dal sito dell'inter non compro più nemmeno nulla non compro più niente fino a che i cinesi non vanno via io però non ti posso dire di non andare allo stadio non vanno via non vanno via però uno schifo del genere specialmente a quel cialtrone che dice chiedete scusa l'inzaghi l'inzaghi l'ha fatta la storia l'abbiamo fatta la storia abbiamo perso tre partite a San Siro si sta scrivendo la storia l'ho visto che si sta scrivendo la storia ma in conclusione se non vi sentite rappresentati dalla tribuna che non protesta dall'anello verde che non protesta rappresentatevi da soli protestate da soli ci sono tantissime ci sono tantissimi modi di protestare non c'è bisogno andare lì offendere spaccare vai lì e tu gli lasci la maglietta non ne possiamo più e c'è anche un quarto di finale dove siamo messi bene perché abbiamo fatto di Champions League abbiamo fatto due gol al Benfica ma io vedo io cioè non ho mai visto uno sdegno così totale tra tutti i tifosi dell'Inter e c'è comunque una squadra nel Champions League ha fatto bene e pensa se non ci fosse stata la Champions vedo uno sdegno una rassegnazione dei tifosi interisti uno una tristezza che non ho mai visto io poi ragazzi a me non mi dovete chiedere ma perché la curva non fischia ma perché chiedetelo a loro io cosa ne so io della curva chiedetelo a loro perché non fischiate più perché avete fischiato Eto avete fischiato Ronaldo Moratti Pellegrini e questo qui non lo fischiate lo dovete chiedere a loro non lo dovete chiedere a me io non so nulla della curva ciao Unita Grazie a tutti.